Ciao da Avsim! Ma quanto è gobbo Igor Tudor! Ma quanto rappresenta e incarna il DNA della Juventus? Che grande scelta ha fatto la Juve di chiamarlo sulla panchina... ah no è vero c'è Allegri... No, ah è vero sì, no, devo parlare di Igor Tudor che è nuovo allenatore del Marsiglia, no scusate, allora resettiamo. Igor Tudor, nuovo allenatore del Marsiglia, annunciato, conferenza stampa, ha detto che Mauro Kerman Camoranesi sarà il suo braccio destro, cioè il vice allenatore. Ah ma quanto è gobbo Camoranesi, quanto incarna lui il DNA Juve, neanche Paolo Montero che è stato messo allenatore dell'Under-19. No, vabbè, avete capito il discorso qual è. Questa storia del DNA Juve deve finire una volta per tutte, perché non se ne può più. Viene utilizzato a convenienza, come dimostriamo in questo video, in questo ragionamento, ma soprattutto viene utilizzato soltanto quando si tratta di qualche cosa che convince il presidente di turno, e in questo caso anche l'allenatore che però sarebbe lui a doversene magari andare, Allegri, per far posto a qualcuno che forse non incarna proprio il DNA Juve, ma sarebbe una scelta valida. È il presidente, è Agnelli che è detta la linea. Devono essere tutti quanti allineati sul DNA Juve. Ora qualcuno però mi spieghi perché Montero ha il DNA Juve e viene richiamato perché ha il DNA Juve da instillare nei giovani che deve far crescere nell'Under-19, poveri loro, e Tudor il DNA Juve non ce l'ha. Perché Montero ha giocato più anni alla Juve di Tudor? Non lo so, qual è la differenza? Perché mi pare che erano entrambi giocatori rocciosi, molto anche carismatici, sicuramente più Montero di Tudor, però giocatori fisici, giocatori rocciosi, rognosi, giocatori duri. Cioè tu vedevi Montero, pigna Montero, Tudor è insomma pure lui, mica male. Però Montero ha il DNA Juve e Tudor non ce l'ha. Qual è la differenza? Non lo so, è la nazionalità. Camoranesi non ha il DNA Juve. Perché Camoranesi non ha il DNA Juve? Cioè Camoranesi è un oriundo che anche grazie alla Juve è diventato campione del mondo con l'Italia. Perché Camoranesi non va bene? Perché Tudor chiama Camoranesi come vice dopo che lui è stato messo vice di Pirlo perché doveva dare il DNA Juve? Perché poi quando Tudor è stato scelto come vice di Pirlo, ma vice di Pirlo non è mai stato, perché il vice era Baronio e lui era un assistente tecnico, un collaboratore tecnico, un po' come adesso Paolo Bianco, il tattico ex vice di De Zerbi, per Allegri, che cosa ha detto la retorica filosocetaria dei media e dei tifosi? Tudor è perfetto perché incarna il DNA Juve, quindi aiuta Pirlo nel diventare allenatore con un gruppo che conosce perché con alcuni ci ha giocato assieme, però Tudor da allenatore perché prima di essere vice alla Juve aveva allenato lo Spalato, l'Udinese, il Galatasaray, cioè era stato proprio allenatore di prima squadra e quindi è una mossa giusta. Poi Tudor viene cacciato insieme a Pirlo, rivendica l'ingiustizia di questo esone, dicendo abbiamo raggiunto tutti gli obiettivi che ci avevano chiesto e ci hanno cacciato, non ho capito perché, evidentemente si rende antipatico per questo, nel frattempo va al Verona e fa un ottimo lavoro, va al Verona e fa un ottimo lavoro, poi viene scelto dal Marsiglia e noi dobbiamo stare qui a guardare e non è più un allenatore da DNA. Perché allora Tudor non poteva essere una scelta valida al posto di Pirlo? Volevi cacciare Pirlo, mettevi Tudor come allenatore della prima squadra. Perché non si poteva fare? Perché non si poteva cacciare Allegri quest'anno per prendere Tudor? Che può essere un rimpianto della Juve? Cioè noi abbiamo avuto un signore allenatore e gli abbiamo fatto fare il portaborse, il portaborse di Baronio, che poi Pirlo si è portato alla squadra turca, come si chiama, Karagum Ruk, perdonatemi, dove adesso farà questa nuova esperienza. Veramente, ci mangiamo le mani, cioè onestamente Tudor era un signore allenatore. Non è che devi per forza andare a prendere Zidane, Klopp, Guardiola, Tuchel, Ancelotti, dite i nomi degli allenatori che ritenete più bravi. Si poteva prendere anche Tudor. Cioè qual è il problema? Qual è il problema? Abbiamo affidato la squadra a Pirlo che non aveva mai allenato e non si poteva affidare a Tudor che perlomeno aveva allenato, ma gli abbiamo fatto fare il vice del vice e giustamente lui se ne è pure pentito e probabilmente le cose non hanno funzionato con Pirlo in particolare. Cioè i due hanno litigato, ci sono state le incomprensioni, ci sono stati degli attriti, ora non lo so, ma non hanno lavorato bene in sintonia. Solo che poi Tudor, anche a nome un po' di tutti, ha detto abbiamo raggiunto gli obiettivi ma ci hanno cacciato lo stesso. E perché? Qualcuno ce lo dovrebbe ancora spiegare. Perché guardate che ancora non è stato detto. È stato detto perché è stato richiamato Allegri, motivazioni assolutamente infondate, la conferenza stampa di presentazione l'anno scorso, vabbè, lasciamo stare, ma mica è stato spiegato perché è stato desonerato Pirlo. Non è stato spiegato, non c'è un motivo, non c'è, non si è capito, non lo hanno detto. Che cos'è questo non detto? Perché non si poteva dire il motivo per cui è stato desonerato Pirlo? E con lui è stato cacciato anche Tudor. E ma veniamo alla spiegazione del perché Montero ha il DNA Juve e Tudor non ce l'ha. Oltre al fatto che magari Montero si allinea con la visione societaria, oltre al fatto che magari Montero ha un miglior rapporto con Agnelli, oltre al fatto che magari Tudor non si allinea e non è un amico di Agnelli, e perché ha parlato male, come si è permesso. Ma ci sono dei motivi contenutistici di campo. Ora io non lo so come allena Montero, anche perché ha avuto un'esperienza ridotta rispetto a Tudor. Tudor è partito dalle giovanili dell'Aiduc Spalato, poi è stato il vice allenatore della Croazia, poi è stato allenatore in prima dello Spalato, poi del Paok Salonico, poi è allenato un club turco e successivamente anche il Galatasaray, poi la prima esperienza ludinese, poi è tornato all'Aiduc, poi è stato il vice del vice della Juve, poi è allenato il Verona con ottimi risultati, e adesso è il nuovo primo allenatore del Marsiglia, succedendo all'ex CT argentino Scaloni, con vice allenatore camoranesi. Camoranesi, che è pure lui allenatore in prima, è allenato in Messico, in Argentina, in Slovenia, e adesso fa il vice al Marsiglia. Quindi un'esperienza più breve, ma comunque anche lui, camoranesi, ha un'esperienza di allenatore. E qual è il fattore contenutistico? Lo apprendiamo dalle parole di Tudor nella conferenza stampa di presentazione. Il mio calcio deve essere offensivo, intenso, ambizioso, coraggioso, si deve fare bene, ma deve essere un calcio organizzato. Non deve essere solo difesa, ma non si può rinunciare a difendere adattandosi alle caratteristiche del campionato. Quindi parliamo di un calcio equilibrato, ma principalmente offensivo, come abbiamo visto fare al Verona. Calcio offensivo, intenso, intenso, offensivo. Tudor, un'altra cosa che aveva detto, uscendo dalla Juve, è stata un calcio intenso, da allenatore del Verona, un calcio intenso come quello che facciamo al Verona, con certi giocatori, non lo puoi fare, con certi campioni, campioni presuntuosi, campioni supponenti, che pensano di essere più importanti dell'allenatore, non lo sono mai, perché i giocatori sono sempre l'ultima ruota del carro. Vengono anche dopo i magazzinieri, perché se i magazzinieri non preparano le scarpe, le magliette, loro non possono giocare, non possono scendere in campo, i giocatori dovrebbero sempre stare zitti, assolutamente zitti, tacere, non avere nessuna opinione, se non all'interno dello spogliatoio, della famiglia, con l'enturace, con lo staff, ma poi pensando esclusivamente a rispettare l'allenatore, allenarsi e giocare. Certo, non devono avere i parocchi, non devono essere stupidi, ma non devono essere presuntuosi, scavalcando l'allenatore, capito Chiellini, capito Bonucci, capito tanti altri, e tu però aveva ragione. Non puoi fare un calcio così intenso con gente che non ha voglia. Però poi dobbiamo sentir parlare, Agnelli, di etica del lavoro, la stessa etica del lavoro, che porta Allegri a farsi una settimana di ferie extra, mentre le altre squadre cominciano ad allenarsi. E poi dobbiamo sentir dire che non ha avuto tempo di preparare la stagione. E se partiamo male non sarà colpa di Allegri, ma sarà colpa dei giocatori che sono scarsi. E certo, sono scarsi, magari con Tudor, questi giocatori scarsi, un certo calcio intenso l'avrebbero voluto fare, l'avrebbero potuto fare, se ci fosse stata una epurazione dei giocatori presuntuosi, dei senatori che pensano di essere la Juve, quando la Juve non è nessuno, la Juve è se stessa e basta, e nessuno si erge al di sopra, ma neanche al livello della Juventus. Forse, forse Alessandro Del Piero sfiora, il livello della Juventus, ma manco lui è al livello della Juventus, sono tutti sotto, ma c'è qualcuno che con la presunzione e la supponenza ha pensato per anni, e qualcuno gliel'ha lasciato pensare, di essere superiore. E quindi uno come Tudor, che magari avrebbe lavorato bene, deve andarsene a lavorare al Verona, facendo un ottimo risultato, ottenendo ottimi risultati, e poi al Marsiglia. Dove per carità non ha questa squadra di fenomeni, i giocatori più significativi sono Paolo Lopez, Caleta Carr, Gueye, Guendouzi, Gerson, Under e Milik hanno in attacco. Ecco, lui ha parlato anche di mercato, ha detto, servono i giocatori adatti al mio gioco, con passione e voglia. Ma questa poi non è la pretesa come quella di Allegri. Voglio Di Maria, Datemi Di Maria, se no me ne vanno, mi dovete dare Di Maria, Di Maria, Di Maria, Di Maria, è due mesi a dire Di Maria. È diverso, è dire, io ho un certo tipo di calcio, tu mi hai scelto come presidente, come direttore sportivo, hai voluto me come allenatore, mi dai dei giocatori con i quali posso lavorare. Perché io mi devo adattare ai giocatori, al contesto del campionato, però devo anche fare il mio calcio, non è che puoi chiamare me, che magari faccio, non lo so, il 4-3-3 offensivo, con recupero palla alto, dandomi una rosa da 5-3-2 rintanati in difesa. Cioè è chiaro che così non posso lavorare, prendevi un altro allenatore. Quindi serve equilibrio, però soprattutto nel momento in cui scegli l'allenatore, gli dai la squadra. Altre cose che ha detto, Tudor, grande storia di questo club, ho visto le partite della scorsa stagione, cioè pensate, lui mentre allenava, il Verona ha visto le partite del Marsiglia. Allegri due anni fermo, non ha visto nulla o quasi nulla a sua detta, ha ricominciato a guardare le partite quando si è prospettata l'ipotesi di tornare ad allenare. Cioè quando Agnelli l'ha chiamato e ha detto, preparati che l'anno prossimo torni. E lui ha guardato qualche partita così, qualche partita. Invece Tudor ha guardato tutte le partite della scorsa stagione del Marsiglia, o almeno così dice. E appunto dobbiamo portare, le persone allo stadio si devono divertire, le persone allo stadio si devono divertire, i tifosi si devono divertire, non se ne devono andare delusi. Non ha il DNA Tudor, lo vedete, non ha il DNA della Juve, perché il DNA della Juve è fare schifo, giocare malissimo, far andare via i tifosi dallo stadio che mugugnano, imbarazzati, frustrati per la prestazione, perché l'avversario di turno, anche ultimo in classifica, ci ha giocato in faccia, e poi sbandierare l'etica del lavoro, la lotta, il sudore, la sofferenza, e tutte queste altre schifezze, che non hanno mai appartenuto al DNA della Juve, perché l'ho già detto, Gianni Agnelli era un esteta, voleva che la Juve giocasse bene, in maniera apprezzabile, dal punto di vista estetico, voleva che la Juve fosse bella, andate per recuperare le interviste, Marcello Lippi, che ha allenato sia Tudor, che Camoranesi, che Montero, ha detto una volta, puoi vincere giocando male, ma sul lungo periodo non vincerai mai, se non giochi bene, per vincere devi giocare bene, e Lippi quindi era contrario al DNA della Juve? Il DNA della Juve non esiste, il DNA della Juve è una cagata pazzesca, il DNA della Juve è una cagata pazzesca, diciamo una volta per tutte, basta, e dobbiamo cacciare il Tudor di turno, perché vuole che i tifosi si divertano allo stadio, e che non vadano via delusi, perché vuole fare calcio offensivo, ovviamente chiedendo i giocatori adatti, l'obiettivo non può essere vincere, in questo momento per questo Marsiglia, che nelle ultime stagioni, dal 2016 e 2017, ha sempre fatto almeno quinto posto in Ligan, e nella 2019-20, e nell'ultima stagione 21-22, ha fatto secondo posto, con scorsa stagione eliminazione ai gironi di Europa League, ed eliminazione in semifinale di Conference League, e uscita ai quarti, eliminazione ai quarti, della Coppa di Francia, ma dice Tudor, l'obiettivo è avere una chiara identità, di questo calcio offensivo, come appunto abbiamo detto, poi bisogna dire anche, che comunque Tudor, ha uno storico, dal punto di vista difensivo, possiamo dire preoccupante, migliorabile, perché, le sue squadre, hanno sempre subito, più di un gol a partita, in alcune stagioni, ha subito più gol, di quelli che ha segnato, la sua squadra, e non ha mai segnato, fatto segnare, alle sue squadre, due gol, o più, non è mai arrivato a due gol fatti, in media, a partita, nelle precedenti esperienze, quindi, può migliorare, forse avrà la rosa a disposizione, per migliorare, ma, mi andava semplicemente, di sottolineare, le parole di Tudor, che forse, squarciano il velo, che forse, spiegano, perché è stato cacciato, perché è stato preso Montero, per l'Under 19, perché è stato ripreso Allegri, ed è stato anche confermato, perché, c'è questa storia, del DNA Juve, che è deleteria, è controproducente, è fasulla, è fallace, e viene utilizzata, solo a convenienza, perché, non è che Tudor, non ha il DNA, perché non è un duro, non ha il DNA, perché la pensa, in maniera diversa, dal presidente, se poi, queste idee, potevano essere, efficaci, per portare la Juve, a migliorare, a crescere, ad essere competitiva, e a vincere, è una cosa, che non è stata presa, in considerazione, perché non piacciono, queste idee, e quindi, non le si mette alla prova, bisogna fare, come dice il presidente, e come piace al presidente, e di conseguenza, all'allenatore, cioè Allegri, se non si gioca, sulla difensiva, se non si sta, a cartocciati, nell'ultimo terzo difensivo, non va bene, non va bene, non dimenticate, Juventus, Zenit San Pietroburgo, o Zenit Juventus, 1-0 per la Juve, partita giocata, in maniera quasi spumeggiante, all'attacco, Allegri esce, dice, non va bene così, nonostante avessimo vinto, e vinto 1-0, Allegri era, super contrariato, era quasi schifato, arrabbiato, contrariato, per quello, che aveva visto in campo, ed infatti, è stata l'unica, ed ultima, partita, giocata, in modo spregiudicato, della Juve, in tutta quanta, la stagione, si deve fare come dice lui, non è vero che lui non è dogmatico, è iperdogmatico, e tra l'altro, ha pure i pariocchi come i cavalli, come i cavalli, perché vede solo quello che piace a lui, il resto non lo prende in considerazione, e mentre abbiamo tantissimi allenatori, che hanno un'idea di gioco, hanno un'identità, ma poi cercano di modificarsi, e di migliorarsi, non sto dicendo che tu, tu eri uno dei migliori allenatori al mondo, non è neanche uno dei migliori allenatori d'Europa, ma forse sarebbe stato, un validissimo allenatore, per la Juventus, solo che quando è stato chiamato, a fare il vice del vice, si è detto, conosce l'ambiente, è perfetto, poi quando è stato cacciato, e adesso che va al Barsiglia, ma chi è Tudor, che ha vinto, è pure straniero, la Juve deve avere allenatori italiani, pure sta roba un po' razzista, la volevo capire, anche il discorso, la Juve deve avere giocatori italiani, lo zoccuro duro italiano, ma perché? Perché se prendi giocatori stranieri, perdi, che vuol dire? Comunque, questo era il discorso su Tudor, e su Camoranesi, seguiremo il Barsiglia, per chi facciamo il tifa in Ligan, questa stagione in Ligan, si tifa a Marsiglia, evidente. Grazie per la vostra attenzione, buon dibattito nei commenti, sulle idee di Tudor, e il DNA di Tudor, che non è DNA Juve, e anche per quanto riguarda Camoranesi, mettete like a questo video, se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, e attivate la campanella delle notifiche, per non perdere i prossimi contenuti, e se volete sfruttare il massimo, da questa community, abbonatevi a questo canale, a partire da 99 centesimi al mese, ed avrete la programmazione quotidiana, con orari e argomenti, dei nuovi video in uscita, e l'accesso in esclusiva a tutte le chat, sul mio server Discord. Ci vediamo molto presto, e sempre forza Juve!